con i c ua cari giapponici e benvenuti voi qui canale solo come sempre il vostro giappogamer abbiamo questo oggi qui su the great king the great hero per un nuovo episodio siamo giunti esattamente il numero 33 chissà cosa accadrà quest'oggi alla nostra eroina yu che vuole diventare ancora più un eroe comunque sia il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale di a te la cappella e allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di the great king the great hero ok giapponici eccoci qui siamo fermati in ultimo episodio allora siamo ancora nel nell'incubo di yu ovvero il yustrial cioè la prova di yu che appunto un grande incubo abbiamo già battuto il re dragone o il re demone flora versione demoniaca e ci batte versioni demoniaca adesso abbiamo andare di qua verso destra potrei dire estrema destra e vediamo un po' che ci accade perché io sono curioso di che caspia e mostro gli sta sinceramente perché abbiamo già affrontato quelli più temibili e terribili poi vediamo un po' ah c'è la neve ecco sentite anche questo audio distorto qua è tutto distorto insomma qualcosa un po' da incubo un po' da little nightmares diciamo da piccoli incubi mamma mia sentite qualche audio totalmente distorto poi sembra questo teatrino sembra appunto una sorta di teatrino se voi possiamo andarcene segniamocene va noi possiamo fare mille combattimenti qua eh ci sono mostri incredibili poi ecca la bufera gazzarola mamma mia che roba non è la bufera ancora voi vabbè meglio ecco appunto me ne scapperei e poi non so manco quanti punti esperienza danno questi boh non so però la prossima volta va bisogna affrontarli eh qua la parte è lunga cazzarola mamma mia vediamo un po' chi siete siete sempre tu va vabbè è tipo la sorta di gufi vediamo un po' vabbè attacchiamo fame slash contro lui che ci può attaccare con le corna fiamma che ovviamente non viene però l'importante è attaccare 142 ok togli due togli tre gli ha un po' una skill jump slash tutte e due gli ha un po' ti riusciamo a farli fuori tutte e due ecco sta attacca bento mortacci vostri yeah tutte e due fatti fuori bene così 11 punti esperienza appunto poi danno pochissimo danno comunque proseguiamo per di qua dai ci siamo quasi eh calla se vuoi quattro andiamo e dai proprio sull'uscio nooo cazzo eeeh si che cazzo è quel mostro là sopra ma la sorta di elefante volante ma che caspita andiamo c'era va damose damose per di qua ok abbiamo passato la neve bene qua è più corto ah e deve essere più tranquillo eccalla ah è rocky dice bark 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 vabbè insomma dice se tu hai battuto il re demone devi perdere you dice vuoi comunque salvare la famiglia dagli amici devi comunque combattere combattermi noi mostri si stiamo sei felice ora you tu hai ammazzato parecchi parecchi mostri diventando un eroe ovvero un'eroina ok ora abbiamo un po' io direi di utilizzare va è un un seme della forza va non si sa mai anche se è piccolo però ecca la eh 42 li mortacci tua tie avviamo un po' ora attacchiamo noi tie 131 17 vai cogi slash 180 tacci tua 35 vai nelti fruit 85 che cazzarola vediamo un po' utilizziamo un healthy fruit va vediamo un po' 102 punti skill adesso già altri 3 punti skill vai you coraggio tocca a noi 183 oh ci ha lisciato buoni tutti buoni tutti attacchiamo normale tie 86 pensavo ci rilisciasse ancora 13 cavolo ma che cosa c'ha fatto c'ha tipo bloccato no buoni tutti eh riferia stamina feritrui andiamo un po' questo lo utilizziamo questo andiamo un po' se ci fa qualcosa 16 andiamo un po' ok vai vai attacca attacca vai così 125 17 rimor tacci tua vai anti fruit arriva 79 tacci tua vai in power fruit abbiamo 31 no ci ha lisciato meno male in power fruit possiamo utilizzarlo no no ci ha tolto 30 ok arriviamo 65 togli 14 vai jump slash vediamo un po' si fa qualcosa no dai 17 fai 120 ne apriamo un po' spiagioni proviamo un po' col miele va ok 93 togli 13 andiamo col jump slash va vediamo un po' vai lo fa 118 14 ma non ci abbiamo niente per bloccarlo porca miseria panacea ice pack vediamo un po' spirit fruit fairy fruit vediamo un po' utilizziamo questo togli 16 vai col vai con la fiamma diamogli fuoco a sto procione tiè 174 16 vai nelti togli 12 vai ancora la fiamma tiè 151 togli 17 tiè 108 17 ma è un power fruit 55 togli 16 gay slash vediamo un po' quanto gaspia sei tosto tiè 118 14 porca miseria vai prendiamo sto miele ok 95 1 togli 13 vai con l'attacco normale no cazzarola ma solo di skip si può andare porca miseria jump slash e tiè 90 si yatta yatta vai così altri 1000 punti esperienza e vai che livella ancora la nostra yu bene così bene così un fango nero va bene ok ottimo così di livello 28 yu attacco 86 di peso 80 17 la velocità bene possiamo tornare qua ok bene così e adesso eh il nostro obiettivo sta là dritto però vediamo un po' se possiamo comprare qualcosa qua eh abbiamo 43 2 healthy fruit un altro ancora ok ok e ok bene così quanto riguarda questo episodio di The Cruel King e The Great Hero abbiamo fatto fuori oggi il pro show bene così bene così bene così bene così e ok cari giapponici eccoci qui nella scena principale di The Cruel King The Great Hero allora anche questo episodio numero 33 della serie ovviamente termina qui sperando che vi sia piaciuto di lasciarmi più likes possibili ovviamente commentate condividete con i vostri amici lungo e largo ovviamente come sempre mi consiglio anche quello di seguirmi nei vari social vi piacere sempre di essere pagina Facebook Twitter Instagram canale Telegram basta scrivere Giappogamer e mi troverò aggiornati in più come sempre mi consiglio è quello anche di iscrivervi al canale e di attivare soprattutto la campanella per non perdermi su video uscita quotidiana e infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress all'indirizzo giappogamer.com punto blog e allora dal vostro giappogamer per il momento è tutto matene e i prossimi episodi